Bene, eccoci qua con il professor Domenico Cuda a trattare un argomento molto importante perché la popolazione è quella italiana invecchia e si presentano sempre più problemi di sordità, addirittura dicevo all'inizio della trasmissione un quinto della popolazione presenta questo problema ovviamente a livelli diversi, gravità diversa e per le gravità maggiori diciamo che la soluzione potrebbe essere di tipo proprio radicale come un impianto cocleale di cui lei penso che sia uno dei massimi esperti nel nostro paese. Vogliamo vedere l'intervento e poi mostriamo la protesi? Ecco, è un intervento... Qui siamo proprio a Piacenza Qui siamo a Piacenza Nella sua unità operativa di Ottorino Qualche giorno fa l'intervento naturalmente viene eseguito in anestesia generale è un intervento che non è particolarmente lungo ecco diciamo che richiede un'oretta, qualche volta un po' meno, un po' più ma all'incirca un'oretta, un intervento abbastanza standardizzato viene eseguito sotto microscopia, ecco vediamo la preparazione del microscopio l'anestesia, l'anestesista, ecco tutte le fasi preparatorie ecco qui vediamo la preparazione del campo Quindi non presenta rischi particolari se non quelli legati all'intervento chirurgico Tipici della patologia dell'orecchio, esatto Ecco naturalmente il paziente è stato ben studiato prima dal punto di vista radiologico, dal punto di vista degli esami generali, eccetera Tutto questo da voi si fa? Assolutamente Cioè voi offrite questo servizio con più? Sì, assolutamente Ecco, vediamo qui la preparazione i monitor attraverso i quali poi seguiremo l'intervento al microscopio ecco e qui si procede con la infiltrazione vedete una piccola area dietro l'orecchio e quella con una matita dermografica viene tracciata la zona dell'incisione il campo viene coperto, si deve seguire in condizioni di massima sterilità e quindi si inizia con una incisione una piccola incisione che si trova dietro al padiglione auricolare di 4 cm o poco più una incisione che sarà poi assolutamente invisibile al termine dell'intervento Vabbè, viene mascherata bene ovviamente Viene mascherata dal condotto uditivo ecco si procede scollando i piani si va per piani questo è il piano cutaneo questo è il piano invece fibro periosteo che ricopre la mastoide cioè quell'osso che abbiamo dietro al padiglione auricolare vedete si incide, si fa le mostre poi si scolla il periostio per esporre bene la parte ossea e si scava un piccolo letto che alloggerà poi la parte più voluminosa dell'impianto che è il cosiddetto ricevitore stimolatore quello che vediamo anteriormente è la pelle del condotto uditivo esterno ecco questo è un simulatore del ricevitore stimolatore che viene intascato sotto il cuoio capelluto si controlla se questa piccola tasca è di dimensioni appropriata e quindi la rimuoviamo quindi già il letto è stato preparato a questo punto ecco proseguiamo nella preparazione della superficie ossea e quindi cominciamo a lavorare con il microscopio operatorio il microscopio operatorio ci consente di lavorare quindi con due mani in estrema sicurezza il chirurgo in questo caso vedete sono seduto comodamente in senso una bella voltroncina e quindi in condizione di massima sicurezza comodità, conforto ecco si procede con la parte diciamo con la preparazione dell'osso si utilizzano dei piccoli trapani di precisione e il primo tempo vedremo sarà quello di fare una piccola mastoidectomia cioè la piccola asportazione di osso ecco vediamo qui per accedere alla zona poi più importante dell'intervento vedete si fa con questo piccolo trapano quell'acqua che si vede è l'acqua dell'irrigatore aspiratore perché rimuovendo, lavando e aspirando vedete il campo rimane pulito l'osso non si riscalda eccessivamente quindi è una procedura molto semplice, molto lineare vedete si procede nella parte anteriore che nello schermo è la parte alta vediamo il confine fra l'osso e la pelle del condotto uditivo esterno qui c'è una piccola l'asportazione di un po' di mucosa ipertrofica ecco qui abbiamo identificato l'incudine che è quella parte biancastra che viene toccata ecco quell'ossicino qui si procede con la cosiddetta timpanotomia posteriore ecco questo è un tempo delicato perché bisogna praticamente passare fra il tratto discendente del nervo facciale e un altro piccolo nervo un'altra piccola formazione nervosa che si chiama corda del timpano che porta una parte della sensibilità gustativa della lingua quindi è un momento veramente topico è un momento delicato e anche questo è un momento rutinario ecco normalmente è un tempo che si fa abbastanza tranquillamente però va fatto con una certa attenzione di solito nei casi più complessi come per esempio nei reinterventi o in casi di malformazione dell'orecchio interno eseguiamo anche il monitoraggio del nervo facciale in maniera da aggiungere sicurezza ulteriore a questo tempo ecco devo dire che non abbiamo mai avuto su oramai sono quasi un migliaio dei casi paralisi permanenti del nervo facciale in questo tipo di interventi ecco qui siamo entrati attraverso questo piccolo varco nella cassa del timpano e questo infatti è un tempo che si chiama di timpanotomia posteriore perché da dietro siamo entrati nella cassa del timpano ecco a questo punto prepariamo questa mucosa siamo ad un ingrandimento molto esasperato in questo momento prepariamo la finestra rotonda nella cassa del timpano esiste cioè questa piccola apertura la finestra rotonda appunto che ci darà accesso diretto al giro basale della coclea quindi identifichiamo bene la finestra prepariamo ecco qui un assetto per vedere un po' come è allestita la sala operatoria lo strumentista di spalle è molto interessante infatti sono contenta mi congratulo anche con il nostro operatore è stato bravissimo sì veramente ci ha regalato delle immagini molto belle ecco e qui questo è l'impianto abbiamo completato la fase preliminare qui possiamo vedere il cuore vero e proprio che è questo multi elettrodo questo è il terminale in cui ci sono diversi contatti vedete quelle bande trasversali che sono i punti attraverso cui poi sarà erogata l'elettricità all'interno della coclea alle terminazioni del nervo acustico ecco questo è il terminale lo proteggiamo in questa fase preliminare lo inseriamo all'interno di un guscio protettivo ecco e procediamo a posizionare invece questo che è la parte ricevente dell'impianto in quella tasca che abbiamo preparato all'inizio fra cuoio capelluto e osso ecco vedete la intaschiamo ecco e praticamente è già posizionato a questo punto procediamo ritorniamo sulla nostra finestra rotonda che avevamo identificato prima perforiamo ecco con un aghetto la sottile membrana che copre questa finestra lo vedremo fra un momento perché questo è un piccolo aghetto ecco vedete quella piccola fessura e in questo momento attraverso quella piccola fessura vedete gentilmente delicatamente procediamo con l'inserimento dell'elettrodo vedete come si procede passo per passo molto delicatamente per non traumatizzare le strutture della coclea ma perché è necessario se il soggetto è sorda? è necessario perché facendo in questa maniera si riduce la formazione di fibrosi all'interno della coclea e quindi si hanno delle stimolazioni elettriche molto più precise molto più accurate e per esempio in caso di reintervento in futuro avremo meno cicatrici meno tessuto osseo neoformato e quindi un eventuale reintervento sarà agevolato ecco questo è il caso perché bisognerebbe fare si può ipotizzare un reintervento si può ipotizzare un reintervento perché per esempio questo soggetto tra dieci anni per esempio ci sarà un aggiornamento tecnologico significativo per esempio allora dobbiamo essere in grado di rimuovere questo dispositivo e di inserire molto importante ho capito oppure semplicemente perché una piccola percentuale dei casi questo può succedere l'impianto può avere un guasto elettronico nella parte interna succede in una percentuale veramente molto bassa però anche questo è possibile allora deve essere possibile seguire un espianto e reimpianto consensuali contestuali più che consensuali giusto no no giusto ecco in maniera il più atraumatica possibile l'esperienza ci insegna che questo è possibile e che si recuperano cioè se si è operato con delicatezza la prima volta è possibile fare qualora ci fosse questa remota ipotesi di un cattivo funzionamento si può comunque reintervenire con estrema facilità ecco questo che vediamo in questo momento è il tecnico di audiometria il nostro neurofisiologo che esegue il monitoraggio intraoperatorio per verificare primo che l'impianto non si sia danneggiato nelle fasi di introduzione e soprattutto come vediamo in questo caso che vi sia già delle risposte del nervo ecco quelle piccole curve che vediamo comparire sono non sono altro che la risposta delle terminazioni del nervo acustico per quello specifico elettrodo questo lo si fa elettrodo per elettrodo e quindi si può dare anche un giudizio prognostico anche immediato di funzionalità voi sapete già se lavorerà bene se funzionerà bene se è integro e che tipo di parametri utilizzare nella prima attivazione ecco vediamo tutti quei puntini della risposta e qui a questo punto l'intervento è finito mentre viene eseguita questa telemetria vedete io continuo a suturare quindi l'intervento è praticamente concluso ecco qui vediamo altre risposte neurali molto buone in questo caso specifico normali che ci fanno pensare senta ma di quindi di impianto lo mette solo da una parte o andrà successivamente fatto l'intervento anche dall'altra parte come dicevamo come dicevamo noi oggi ci diciamo abbiamo come scopo assolutamente quello di ripristinare l'udito binaurale allora se nell'orecchio controlaterale esiste un residuo uditivo sfruttabile con gli apparecchi acustici preferiamo mettere un impianto cocleare magari nel lato peggiore e mantenere l'apparecchio acustico nell'orecchio controlaterale se invece l'orecchio controlaterale non ha residui o comunque residui molto scadenti allora mettiamo un impianto cocleare bilaterale magari in tempi dilazionati o durante lo stesso intervento ah non ci sarebbe nessuna preclusione per metterli anche insieme per metterli anche insieme è un argomento anche questo un po' complesso nel senso che se ne discute ancora ci sono delle no no non è che si discuta diciamo che esistono delle politiche di rimborso degli apparecchi molto differenti da regione a regione è una questione di prettamente economica no no non prettamente anche una questione economica nel caso dei bambini ma costano molto 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 costano molto purtroppo ecco consideriamo che anche se il prezzo è sceso però costano abbondantemente sopra i 15 mila euro per dispositivo quindi è una tecnologia molto costosa per cui ecco immaginate stavo dicendo che nel caso di bambini piccoli quando vi è indicazione procediamo anche all'impianto bilaterale simultaneo perché nel caso dei bambini c'è maggior licenza di agire come penso sia facilmente comprensibile intuibile certo sì sì bellissimo veramente bello emozionante lei ha continuato a dire semplice e facile ma io penso che sia invece difficilissimo che lei abbia due mani straordinarie un'ottima equip ma dove ha imparato lei? ma guardi in realtà non è che si tratti di un intervento cioè vi sono degli interventi chirurgici anche più complessi questo non è un intervento non è tanto l'approccio chirurgico anche se naturalmente va eseguito secondo criteri molto rigorosi ma stiamo parlando di parti estremamente piccole estremamente delicate basta proprio una piccolissima manovra errata per dei danni irreparabili in realtà tutta la chirurgia dell'orecchio è delicata ecco anche la la semplice semplice chirurgia dell'otosclerosi della sostituzione della staffa è una è una è una chirurgia molto delicata ecco l'impianto cocleare non è fra le più complesse ne ha fatti di peggio quindi ci sono degli interventi ancora più complessi bene adesso io chiederei di dimostrarci quali sono le parti che abbiamo visto nel filmato e poi se ci sono effettivamente telefonate andiamo a sentire qual è la curiosità maggiore per il nostro pubblico sì ecco allora dicevamo che l'impianto cocleare lì abbiamo visto un modello questo è un altro diciamo le marche i brand principali sono sono quattro ecco ed è una sono apparecchiatura di tecnologia italiana straniera no sfortunatamente non abbiamo tecnologia italiana abbiamo però una buona eravamo bravi in passato non su questo abbiamo una buona tecnologia vicina al confine per esempio è una tecnologia austriaca molto valida per esempio quell'apparecchio messo prima è di una azienda che è molto importante a livello mondiale che si trova a Innsbruck appena vicino a Bolzano possiamo quasi dire ecco tirolese anche se del nord tirolo c'è un'accettabile tecnologia francese le due aziende però probabilmente non dico più importanti ma di un certo peso anche storicamente sono un'azienda australiana e un'azienda statunitense comunque insomma diciamo l'Europa si difende molto molto bene ecco questo è un altro modello questa è la parte impiantata con l'elettrodo e questa parte sempre avvolta in silicone biocompatibile che è il ricevitore stimolatore il soggetto poi dovrà indossare un dispositivo esterno un dispositivo esterno questo è un colore bianco perché si trova nelle cassettine delle dimostrative per i pazienti in genere i pazienti invece preferiscono un colore che è simile a quello dei capelli che si mimetizza un po' quindi anche qui c'è un piccolo dispositivo retroauricolare che si mette a livello dell'orecchio che contiene la pila quindi l'accumulatore dell'energia elettrica il microfono e il microprocessore che è il vero cuore poi del dispositivo tutto il segnale in codice poi va a finire in questa antenna e questa antenna lo trasmette alla parte impiantata ecco con una calamita le due strutture si accoppiano intorno alla pelle quindi vi è questa trasmissione di segnali in codice che vanno poi a far funzionare quegli elettrodi che abbiamo messo all'interno della coclea e a proposito di elettrodi lei mi diceva prima una cosa ancora importantissima proprio per ricalcare quel concetto che non bisogna perdere tempo che la corteccia cerebrale quella che poi deve decodificare il suono se si fa passare troppo tempo si può atrofizzare lei mi ha spiegato bene che l'impulso nervoso io non so parlare di presinapsi e cosa ho detto quello io proprio non ci arriverò mai ma non sono medico però la cosa che ho capito è che viene trasportato oltre all'impulso elettrico anche un vero e proprio nutrimento nutrimento certo ha un valore trofico la giunzione fra una cellula nervosa e la cellula successiva cioè non stimolare un elemento nervoso che sta a valle significa non dargli nutrimento quindi significa andare in atrofia andare in degenerazione questo spiega benissimo perché se lasciamo passare una decina d'anni poi non otterremo quei risultati sperati perché manca proprio la parte terminale cioè il concetto è la corteccia uditiva si nutre con i suoni se noi non diamo suoni la corteccia uditiva è denutrita e quindi poi quando interveniamo e troppo tardivamente non facciamo più in tempo a risollevare le sorti di questa di quest'area questo è vero per i bambini che nascono sordi un bambino che nasce sordo il pianto cocleare va benissimo nei primi mesi di vita va benissimo va bene nel primo anno va benino il primo e il secondo anno di vita comincia a non avere più lo stesso risultato trattato a tre anni a cinque anni a dieci non conviene assolutamente in assenza di altri provvedimenti farlo più tardivamente perché non avremmo assolutamente lo stesso risultato e così si possono fare tanti altri esempi validi anche nei casi delle sordità più leggere più lievi della terza età quindi mai arrivare troppo tardi a correggere un difetto uditivo perché in questa maniera non nutriamo la nostra corteccia uditiva ho capito bene sentiamo adesso chi è in linea e quale problema ha il nostro telespettatore pronto? so che abbiamo già attivato il collegamento pronto? purtroppo non sentiamo nessuno pronto? pronto? benvenuta benvenuta buonasera buonasera a lei che ci sta da dove ci sta seguendo signora? da Vicenza ben arrivata grazie dica allora senta io sentivo parlare in trasmissione il professore di sordità nei bambini di intervento nei bambini molto piccoli e anche negli adulti nel caso invece degli adolescenti di età quindi tra i 12 e i 14 anni con una sordità è arrivata diciamo così rilevata in quell'epoca perché in realtà alcuni dicono che è così dalla nascita anche se non ce ne saremmo accorti ecco volevo sapere rispetto agli adolescenti questo tipo di intervento se è da consigliare oppure no ecco ma signora si tratta di una sordità quindi grave o profonda? si tratta di una di una sordità profonda da un orecchio solo da un orecchio solo quindi probabilmente congenita ecco questo è molto interessante questa domanda perché ci fa vedere un caso che osserviamo molto frequentemente ecco non capita settimana che non ci sia un quesito da parte di genitori su casi similari allora dicevo prima signora che il caso della sordità monolaterale è un caso a sé è un caso che diciamo sta crescendo come interesse proprio negli ultimi negli ultimi anni negli ultimi due o tre anni e che nel caso dell'adulto è stato ben sistematizzato cioè nel caso dell'adulto vi è l'indicazione a posizionare un impianto cocleare in casi selezionati di sordità monolaterale nel caso del bambino non vi sarebbe ancora il beneplacito delle autorità sanitarie europee neanche di quelle americane però è chiaro che vi sono delle situazioni sotto forma di studi clinici controllati autorizzati dai comitati etici in cui si cominciano a eseguire questi interventi ecco adolescente intanto perché è stata fatta tardi la diagnosi perché è una cosa abbastanza tipica questa perché il bambino immaginando per esempio che il suo figlio sia nato con la sordità profonda da un lato lasciato a sé stesso il bambino non si rende conto nei primi anni di questa problematica in genere si comincia a percepire qualcosa del genere quando si è in età scolare ma talora anche più tardi quando il bambino comincia magari a giocare con delle cuffiette o a giocare con il telefono o a rendersi conto che sistematicamente quando uno gli sbiglia qualcosa da un lato lui non si rende se ne è accorto suo figlio signora infatti se ne è accorto in seguito a un'estate lui fa pnea e quindi dopo le immersioni sentiva questa sordità che gli durava tutta la giornata e poi ritornava a sentire un po' meglio quindi in quell'occasione abbiamo fatto dei controlli ed è emerso che da un orecchio in particolare aveva un'assordità abbastanza evidente di cui secondo appunto i medici non ce ne eravamo accorti nonostante anche gli insegnanti parlo di età scolastica elementari non avessero notato nulla perché poi sono tornata a parlare neanche con chi aveva contatti dove vedeva la relazione del bambino a scuola il fatto se interveniva se relazionava con i compagni piuttosto che con gli insegnanti per l'insegnamento e niente mi è stato segnalato neanche da loro in realtà il ragazzo se ne è accorto in maniera molto evidente a 12 anni e un'estate al mare con questo legame con l'apnea e il nuoto che lui faceva certo diciamo che ecco quindi mi pare che sia davvero una storia tipica similare a quella di tanti altri il bambino non si accorge non si accorge soprattutto chi sta intorno nei primi anni di vita perché l'orecchio sano compensa bene compensa bene cioè l'udito stereofonico e questo è il messaggio importante è una funzione fine è importante ma è una funzione fine per cui per rendersi veramente conto bisogna avere un'esperienza di udito stereofonico chi nasce invece con un solo orecchio fa molta fatica a realizzare che manca qualcosa che manca la stereofonia è più facile invece perché ha avuto esperienza di udito stereofonico allora per tornare al da farsi è chiaro che questa probabilmente signora è una di quelle situazioni in cui effettivamente è un po' azzardato pensare all'ipotesi di risolvere con impianto cocleare la sordità di quel lato di quel lato ammalato perché verosimilmente perché non sappiamo da quanto tempo esiste questa sordità ma è facile pensare che magari sia presente già sin dalla nascita e allora potrebbe essere effettivamente molto tardi agire con un intervallo così lungo ho capito quindi non è una questione legata all'adolescenza ma legata al periodo alla lunga durata della deprivazione non all'età in sé ma non c'è modo di capire se effettivamente è così dalla nascita oppure è un episodio che si è verificato dopo questa questa io credo che sia molto difficile e una delle cose da considerare per esempio è verificare se è stato fatto uno screening neonatale nel punto nascita in cui è nato il bambino oggi come oggi sono diffusissimi in quasi tutto il territorio nazionale cosa si fa esattamente per capire se i bambini sono generalmente si utilizzano le emissioni autoacustiche una tecnica che fa sì che in presenza di udito normale appoggiando un piccolo terminale sull'orecchio del neonato si inviano dei click cioè dei rumori tipo un piccolo crepitio se c'è l'urito integro questi suoni vengono diciamo ritornano indietro e quindi vengono captati dalla strumentazione quindi il personale del nido della oppure dell'ospedale esatto dell'ospedale utilizza questo strumento è un po' come prendere la temperatura all'orecchio è una cosa abbastanza semplice e c'è o disco verde o disco rosso ecco sostanzialmente quindi dovrà interessarmi a vedere se in origine dove è nato ha avuto esatto bisogna vedere se è stato fatto lo screening questa è la tecnica più comune ce ne sono poi altre però ecco in genere nei punti nascita oggi viene fatto quasi sistematicamente lo screening è mio figlio del 99 non so se allora si facevano ecco questo bisognerebbe verificarlo e questo potrebbe essere l'unica cosa che ci dà la risposta al quesito che lei pone se è un problema congenito facciamo tanti auguri signora soprattutto al suo ragazzo e grazie per aver chiamato era un caso davvero interessante è emblematico perché poi il genitore naturalmente è in apprezzione vorrebbe fare qualcosa è chiaro perché sì sicuramente il ragazzo riuscirà a viverci bene anche con questa piccola menomazione però è ovvio che si pensa al futuro all'evoluzione alla speriamo lunga vita di questo ragazzo possiamo probabilmente approfittare di questo dello spunto offerto da questa ascoltatrice per una per dire un altro aspetto cioè le perdite monolaterali possono anche essere gestite in un'altra maniera cioè realizzando un allestimento cross che cosa significa cross io ho per esempio questo orecchio con il problema quindi con la perdita importante quest'altro orecchio normale io posso far sì che qui colloco un microfonino che capta il segnale e con un qualche sistema io lo invio all'orecchio buono questo lo posso realizzare mettendo per esempio due piccoli apparecchi collegati in wireless d'accordo oppure lo posso realizzare per esempio mettendo un piccolo dispositivo osseo semi impiantabile da questa parte che stimola l'osso un piccolo vibratore che stimola l'osso e l'osso immediatamente trasmette il segnale all'orecchio buono ecco questo naturalmente non significa recuperare la stereofonia però può significare recuperare percepire qualcosa un dito da quella parte è una sorta di bypass ecco io lavoro sempre con l'orecchio buono però riesco a sentire quello che mi arriva anche nel lato malato è una via di mezzo fra avere un solo orecchio o avere i due orecchi come nel caso dell'impianto vero sul lato ammalato quindi ecco è una strategia che per esempio il figlio della signora in futuro quando sarà grande potrà sfruttare ci è capitato per esempio di farlo in diversi soggetti non so il tassista con l'orecchio destro in questa situazione e allora realizziamo il sistema cross e quindi può parlare tranquillamente con il cliente dietro perché percepisce con l'orecchio buono e il microfonino è messo da questa parte piuttosto che l'avvocato che ha il cliente da una parte il collega dall'altra e già pensiamo ci sono alcune professioni che richiedono proprio quindi io suggerirei di vedere un po' poi in età lavorativa le esigenze di studiare qualcosa del genere il tempo gioca anche a favore di questo giovanissimo perché sicuramente tutta è una ricerca in evoluzione ecco qui mi permetto di dissentire un po' per la ragione che dicevamo prima cioè il tempo sicuramente gioca a favore ma c'è la corteccia ci sarà sempre questo limite per cui hai ragione io ero un ottimista veramente inguaribile su questo punto sentiamo chi c'è in linea adesso e qual è il problema pronto? sì pronto buonasera grazie per avermi ospitato la vostra trasmissione complimenti per le trasmissioni che fate io mi chiamo Svaldo chiamo dalla provincia di Milano volevo chiedere un acquisito al dottor Cuda certo io ho 52 anni sono praticamente da 8 anni che ho una sordità con un associato da cufene all'orecchio sinistro ho sentito le varie ipotesi che si possono fare io vorrei venire a trovarla tra un po' a Piacenza volevo sapere per quel discorso che lei diceva prima della corteccia se sono ancora in tempo per poter fare qualcosa adesso adopero un apparecchio acustico che mi agevola un po' il problema però questa cufene lo sento e anche il discorso della stereofonia mi pesa molto ecco grazie dottor Cuda grazie a lei Osvaldo senta adesso non vorrei aver terrorizzato troppo gli ascoltatori con il discorso della precocità ecco non dobbiamo pensare a queste patologie come pensiamo in altri campi della medicina non so quello tumorale quello infettivo cioè la tempestività è necessaria però ecco non dobbiamo pensare che se è passato un anno due o tre siamo in ritardo ne sono passati otto ne sono passati otto ma ha già attuato però una strategia perché ha un apparecchio acustico ecco quindi dobbiamo pensare che il tardi significa dieci anni forse e non fare proprio assolutamente niente senza fare assolutamente niente avendo ben coscienza avendo una consapevolezza importante sul problema allora quello può essere grave il discorso nel caso del bambino è un po' più critico perché il bambino ha dei periodi di plasticità dei periodi critici per cui a volte anche un solo anno può cambiare un po' la prognosi del risultato ecco il da farsi bisognerebbe un pochino vedere il livello di ipoacusia ha già un apparecchio acustico quindi un po' di compenso dovrebbe già esserci di questa stereofonia per quanto riguarda l'acufene ricordo che una delle delle tre strategie uno dei tre piedi dei tre pilastri su cui poggia il trattamento dell'acufene è proprio la terapia del suono quindi compensare una perdita uditiva è importantissimo è importantissimo magari anche poter disporre degli apparecchi di ultima generazione i famosi apparecchi di cui parlavamo prima che fanno tante cose ecco fra le tante cose possono anche generare dei segnali possono anche produrre dei segnali delle musiche zen per esempio piuttosto che dei segnali dei frattali acustici si chiamano così sono dei segnali che si possono mettere per esempio come sottofondo molto da tarare caso per caso in maniera adeguata e che possono alleviare ulteriormente il disagio causato dall'acufene in presenza di sordità adesso poi si tratterà di vedere caso per caso ecco ma questa è un'altra delle possibilità che ci offrono gli apparecchi di nuova tecnologia bellissima risposta io spero che il telespettatore sia soddisfatto abbia apprezzato e guardi mi preoccupo anch'io non vorrei che da domani poi le arrivassero già so che i vostri numeri sono piuttosto alti quindi con una certa non dico difficoltà nella gestione però mi preoccupo che l'ASL di Piacenza poi non mi sgridi per questo genere di trasmissioni adesso osserviamo una pausa velocissima prometto la pubblicità ci è necessaria per vivere e vi aspetto con altre telefonate subito dopo